Dopo il successo della prima presentazione ufficiale avvenuta a Milano a fine dicembre della guida 2016 Eurotoc Italia realizzata da Italia a tavola, l'associazione ha dedicato un evento anche al sud con una nuova presentazione della guida alla Camera di Commercio di Siracusa. L'iniziativa si è divisa in due momenti, la tavola rotonda sul ruolo dei cuochi ambasciatori del territorio e la cena di gala. L'evento è stato organizzato dallo chef Eurotoc Maurizio Urso, segretario generale dell'associazione. Eurotoc non è altro che un gruppo di cuochi, raccoglie 3.000 cuochi in tutta Europa, considerando che solo in Italia siamo circa 200.000, voluto da Paul Bocchius, Gualtiero Marchesi e Romier. Quello che noi vogliamo trasmettere è appunto un territorio, un chilometro zero, vogliamo trasmettere i prodotti eccellenti del nostro territorio e quindi è fondamentale per noi oggi far capire ai nostri ospiti e ai nostri commensali che l'impegno dei cuochi, soprattutto dei cuochi Eurotoc, è quello di portare del cibo sano con dei produttori d'eccellenza alle nostre tavole. Affrontato anche il tema dell'importanza del ruolo dei cuochi come ambasciatori del territorio, nonché quello della sostenibilità ambientale. Il progetto che abbiamo iniziato qua a Siracusa è, come dice oggi la presentazione dell'Eurotoc, territorio. Abbiamo iniziato questo progetto cercando di valorizzare tutte le materie prime del nostro territorio, dai Monti Blei arrivare fino alla costa di Siracusa e così via, e cercando di offrire ai nostri clienti, ai nostri avventori, una materia prima, una cucina che parla di territorio. Beh, qui la Siracusa, la Sicilia è ricca di prodotti, in questo caso oggi ci sarà questa serata, un piccolo show cooking legato alla sana alimentazione, beh adesso in questi anni si parla tanto di dieta mediterranea, di stile di vita corretto, Sicilia e in questo caso Siracusa può essere sicuramente la base di partenza per un corretto stile di vita che ha il maggior numero di prodotti, e quindi sta poi a noi cuochi cercare di valorizzarli, di abbinarli, di associarli nel modo giusto senza mandarli in fumo perché ci vuole poco a bruciare un prodotto in padella o soprattutto ad alterare tanti valori nutrizionali. Caratterizzata da una veste grafica elegante e ricca di informazioni, la guida 2016 Eurotoc Italia contiene le schede dettagliate di 168 cuochi degli oltre 200 iscritti. Caratterizzata da una veste grafica legato,